Il 4 maggio del 1949, in un incidente aereo sulla collina di Superga, scompare il grande Torino, la più grande squadra di calcio mai conosciuta fino ad allora, senza se e senza ma. Una squadra capace di vittorie a ripetizione nel campionato italiano, una squadra che ha scritto l'epica dello sport che tutti amiamo. Una squadra che è anche, a mio modo di vedere, la perfetta immagine di cos'è il calcio italiano, di come nasce un progetto vincente nel calcio e di come il calcio italiano è stato pioniere di quello che è il calcio moderno che conosciamo tutti. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Non è un tema semplice quello di oggi perché parlare del grande Torino porta naturalmente grande cordoglio, grande commozione e grande rispetto per una squadra epica del nostro calcio che perì in una maniera davvero tragica. Vi invito ovviamente a fare like al video, a iscrivervi, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati con una raccomandazione nei commenti. Il mio non vuole essere assolutamente un video poco rispettoso, ma anzi al contrario. Voglio restituire, voglio rendere onore, omaggio al grande Torino, raccontando anche quella che fu la storia economico-sportiva di quel grande club e di quel grande gruppo. Perché io credo che in Italia spesso si parli di questioni economiche ed economico-sportive in particolare sempre con un fare inquisitorio. Fare inquisitorio che non mi appartiene nella maniera più assoluta. Io sono sempre garantista, sono sempre aperto a capire quali sono le dinamiche e gli interessi in gioco prima di emettere sentenze o prima di dire bene o male di qualcosa. Nel caso del Torino, secondo me, siamo di fronte ad un club che ha segnato dal punto di vista tecnico e tattico il nostro calcio, ma siamo anche di fronte ad un club che ha caratterizzato quello che il nostro calcio è stato e sarebbe diventato ancora di più negli anni successivi. Quindi un testimone del suo tempo che va oltre ogni tempo per quello che ci ha dato sul campo e per quello che ci insegna dal punto di vista economico-sportivo. Il presidente Ferruccio Novo dal 1939 al 1945, grosso modo, investe moltissimo nella sua idea di grande club. Dobbiamo partire da un presupposto per capire cos'è il calcio in quel momento, siamo negli anni della guerra. Questo è molto importante. Nel 1967, vent'anni dopo, il Celtic di Glasgow vincerà il triplete, il primo triplete della storia del calcio, con una rosa di giocatori tutti nati a meno di 30 miglia dal Celtic Park, dallo stadio. Il Torino, vent'anni prima, costruisce con grande capacità di selezione dei giocatori, un club che è rappresentativo del meglio che tutto il nord Italia può dare. In un altro video in cui parlo della carta di Viareggio e del professionismo in Italia, ricordo come nel 1929, all'atto della firma della carta di Viareggio che riconobbe il professionismo in Italia, venne riconosciuta anche la libertà ai calciatori di muoversi al di fuori della provincia in cui erano residenti per giocare a calcio a livello non dilettantistico, perché questa è la dicitura che veniva utilizzata ai tempi, in squadre quindi non della provincia. Tra il 1939 e il 1945, Ferruccio Novo investe in un progetto sportivo vincente e come e sarà un grande progetto sportivo vincente. C'è sempre il tema di fondo di una FGC che cerca di contenere le spese e che non ci riesce particolarmente. Il presidente è Giorgio Vaccaro in quegli anni e il dibattito sul tentativo di circoscrivere le spese è sempre aperto, ma il Torino va decisamente oltre e crea una squadra inimitabile. Nel settembre del 1940 la FGC sottoscrive un accordo che limita gli ingaggi annuali dei calciatori e mette anche tetti alle cessioni ai valori di cessione dei calciatori con deroghe per la serie A. Nel suo libro Il calcio in Italia Mario Pennacchia ricostruisce le spese del Torino e dice che dal 39 al 45 il Toro investe 3,763 milioni di vecchie lire, una cifra astronomica per quei tempi per poter allestire la squadra. Andiamo nel dettaglio. Nel 39 Ossola viene preso dal Varese per 55 mila lire, nel 41 Rigamonti dal Brescia per 18 mila lire, Ferraris dall'Inter per 200 e Gabetto dalla Juventus per 330 mila lire. Nel 42 Grezzar arriva dalla Triestina per 250 mila lire e dal Venezia per l'operazione più importante che viene fatta in quegli anni Loic e Valentino Mazzola arrivano per la sombra complessiva di 1,3 milioni di lire, 625 mila lire ciascuno. Nel 45 Bacigalupo arriva dal Savona per 160 mila lire, Ballarin dalla Triestina per altri 600, Castigliano dallo Spezia per altri 600 mila lire. È inevitabile che si creino nel tempo anche rivendicazioni di questi calciatori che vincono e chiaramente alzano il prezzo e il 14 settembre del 1948 la stampa riporta voci di tensioni tra società e calciatori sui contratti, sugli ingaggi, sui rinnoi. Il calcio in Italia, come dico spesso, è caratterizzato dal calcio mercato. È un calcio orientato tantissimo a investimenti sul calcio mercato e possiamo dividere sostanzialmente due grandi categorie. I presidenti ambiziosi che vogliono vincere, che stanno nel calcio per vincere e questo sarà il tema della Juventus, del Milan, dell'Inter, ma anche di diversi presidenti non vincenti che provano a vincere a Napoli, a Roma. Alcuni ce la faranno a Genova, la Sampdoria di Mantovani negli anni 90 coronerà il grande sogno di portare lo scudetto a Genova dopo gli scudetti dei pionieri del Genova. E poi ci sono presidenti che fanno calcio per avere notorietà, fama e a volte possiamo dirlo vantaggi economici a livello locale e per guadagnare possibilmente dalla compravendita dei calciatori. Il nostro calcio è un calcio fortemente orientato al calcio mercato. Ferruccio Novo con l'operazione Grande Torino, che è un'operazione di grande lungimiranza tecnico-tattica ma che richiede investimenti ingenti, non è il Torino una squadra che nasce nel settore giovanile del Torino, che pure diventerà fiore all'occhiello, celebrato e giustamente celebrato nel calcio italiano. Ferruccio Novo crea una squadra che nasce grazie a investimenti e a calcio mercato e questo è il modello che si affermerà negli anni nel nostro calcio. Solo nel 1951 il presidente Raimondo Lanza di Trabia, che gestisce il Palermo, aprirà al modello del calcio mercato come luogo fisico all'Hotel Gallia di Milano, caratterizzando ulteriormente il nostro calcio con questa idea del calcio mercato. E proprio per questo va reso onore e merito a Ferruccio Novo per aver fatto grandi investimenti che hanno dato vita a quella che alcuni oggi considerano ancora la più grande squadra di calcio mai vista nel calcio italiano, difficile naturalmente paragonare le epoche, certamente quella destinata al più tragico destino. Grazie, ci vediamo presto sul canale, contenuti ogni giorno. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.